Un po' sorpresa, Huawei ha presentato la EMUI 9, ovvero la nona versione della sua personalizzazione Android, un'interfaccia che ormai è diventata sempre più ampia, complessa e completa e che adesso, o meglio tra pochissimo, sarà aggiornata ad Android 9. Durante la presentazione sono state mostrate alcune delle nuove funzionalità, ma non è stata mostrata l'interfaccia intera, ovvero tutte quelle caratteristiche che vedremo probabilmente soltanto con il debutto a metà ottobre di Mate 20 Pro. Però di fatto Huawei ha lavorato per snellire l'interfaccia, aggregare una serie di impostazioni e funzionalità in modo da rendere i menu meno ampi, più immediati e facili ovviamente da consultare, ha cercato di rendere ancora più efficace tutta l'interazione a livello di touch, di utilizzo dell'interfaccia e con tasti e indicazioni ben chiare e facili da vedere appunto sopra tutte le varie opzioni e programmi che sono stati preinstallati da Huawei all'interno dei vari smartphone. I vari smartphone saranno infatti aggiornati moltissimi prodotti, la beta è infatti già disponibile o comunque lo sarà a brevissimo nelle prossime ore per una serie di smartphone Huawei e Honor, ma Huawei ci ha confermato a porte chiuse, quindi diciamo a telecamere spente, che la MIUI 9 sarà l'aggiornamento che arriverà sulla più ampia quantità di dispositivi Huawei finora aggiornati. Quindi la speranza è che anche magari i smartphone che hanno visto Oreo diciamo da poco possono vedere anche Android 9 Pie con la nuova Emotion UI 9. Non è stato però confermato quali esattamente saranno i prodotti. Maggiori informazioni e dettagli come sempre li trovate nell'articolo in descrizione dove ci sono anche alcune screenshot che abbiamo già fatto della nuova interfaccia. Ho avuto modo di giocarci per qualche minuto, purtroppo le icone come vedete sono ancora quelle vecchie, ma non è detto che appunto con l'arrivo del Mate 20 Pro questa cosa, questa caratteristica che a molti dà fastidio possa cambiare. Ciao a tutti! Grazie a tutti!